Gli scorsi 6-11 e 12 agosto presso il Centro di Permanenza per Rimpatrio e Brunelleschi si sono verificati numerosi episodi di danneggiamento della struttura ad opera di alcuni soggetti ospitati che all'interno delle aree hanno fomentato gli altri contro personale di polizia e gli operatori in servizio presso la struttura. Grazie